Benvenuti in questo nuovo video. Stavolta parliamo ancora di recovery plan ma di conseguenze particolari per quanto riguarda il mondo delle imprese e dell'innovazione in quanto dobbiamo sicuramente sforzarci di togliere tutti quei vincoli alla crescita che hanno reso il nostro paese un po' stantito dal punto di vista della crescita economica che si è sempre attestata sull'1% o poco meno, quindi valori troppo bassi per restare al passo con i tempi ma la digitalizzazione forzata che impone il recovery plan potrebbe portare al rischio 1,5 milioni di posti di lavoro che sono attualmente una buona parte delle persone in cassa integrazione e che quindi sarebbero più propense o a cambiare lavoro o a rischiare di perderlo oppure a trasformare il loro lavoro in una forma più di compiti svolte a casa. Quindi si ritorna sul concetto di smart working, ne ho già parlato in due se non tre video qui sul canale è un argomento di cui sicuramente sentiremo parlare ancora perché fondamentalmente il lavoro da casa può funzionare ma fino a un certo punto è chiaro che si parla di una futura diminuzione dei colletti bianchi almeno questo è uno scenario possibile in quanto sono tre le riforme più importanti da fare e che avranno delle conseguenze sul settore delle imprese e dei colletti bianchi e sono la riforma della burocrazia e dei processi a livello civile e poi della pubblica amministrazione. Queste tre riforme poi sono accompagnate da una velocizzazione dei processi sulle infrastrutture ho parlato anche in un altro video proprio di questo tema lo trovate tra l'altro nelle playlist che ho fatto recentemente dove a seconda degli argomenti appunto ho suddiviso e raccolto tutti i video può tornare comodo se vi va di rivederli e ripescare alcuni argomenti quindi la situazione è fondamentalmente di una forte prospettiva di crescita però in parallelo c'è il rischio di questo milione e mezzo di posti di lavoro che grazie alla digitalizzazione se non vogliamo forzata per l'Italia perché è un po' più indietro agli altri paesi potrebbero andare persi quindi la digitalizzazione è un bene o un male staremo a vedere sulla base di come viene utilizzata questa prima tranche di fondi e sta poi da vedere anche il fatto di come verranno distribuite le altre somme di denaro dei recovery plan e secondo quali criteri appunto l'Unione Europea li erogherà è chiaro che il mondo del lavoro a livello dell'high tech dell'interconnessione necessita tantissimo di un avanzamento di un aggiornamento delle qualità oltre che delle competenze sia umane che meccaniche quindi sicuramente è figo fa figo vedere ambienti di lavoro con strutture avanzate, tecnologiche però bisogna vedere quanto queste sostituiscano o meno il lavoro umano sicuramente è un argomento su cui potrei tornare e lo teniamo sotto osservazione spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima